Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24. Parliamo di cronaca di un grave, fatto di cronaca avvenuto nell'Agrigentino. Un 32enne tunisino è stato raggiunto da diversi colpi di fucile ieri sera alle 23 circa nei pressi di un bar nel centro di Ravanusa. Il ferito è stato soccorso e inizialmente, non ritenuto in pericolo di vita, è stato portato all'ospedale di Canicattì. Poco dopo però, per delle complicanze, è stato trasferito all'ospedale Villa Sofia di Palermo dove è ricoverato in rianimazione. Delle indagini sul tentato omicidio si stanno occupando i carabinieri che hanno già verificato l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati presenti nella zona. Cambiamo argomento, parliamo adesso dell'ennesima tragedia in mare, parliamo di immigrazione, di migranti. Sarebbero morti di fame e di freddo i cinque uomini e le tre donne, una delle quali in avanzato stato di gravidanza, che sono stati ritrovati dalla motovedetta della Guardia Costiera che ha effettuato il soccorso di un barcone a 42 miglia da Lampedusa in Acque Sar Maltesi. Ci sono anche due dispersi, secondo quanto raccontato, dagli stessi migranti. I superstiti hanno riferito che sul barcone c'era una donna con il suo neonato di quattro mesi che a causa del freddo è morto durante il viaggio e la madre, per disperazione, lo ha gettato in mare. Un uomo si è tuffato in acqua sperando di recuperare il corpo del neonato ma sarebbe annegato fra le onde. Anche la madre del piccolo è morta a poche ore dopo aver gettato in acqua il suo bambino. Il suo cadavere, così come quello degli altri sette compagni di viaggio, è stato lasciato all'interno dello scafo. Cambiamo argomento, notizia da Comiso nel Ragusano, dove tre giovani sono stati beccati dalla Polizia di Stato, avevano rubato un'automobile e sono stati per questo denunciati per ricettazione il servizio. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Comiso hanno denunciato in stato di libertà tre giovani di cui uno straniero per ricettazione. Il proprietario di un'autovettura, accortosi del furto del proprio veicolo che aveva parcheggiato di fronte alla sua attività commerciale, ha telefonato immediatamente alla sala operativa del commissariato raccontando l'accaduto. La nota di ricerca è stata immediatamente diramata alle pattuglie presenti sul territorio che con l'ausilio di una volante del commissariato di Vittoria in breve tempo sono riuscite a rintracciare e bloccare l'autovettura rubata con a bordo tre giovani. Gli agenti hanno perquisito la macchina e hanno rinvenuto una chiave adulterina idonea a poter avviare l'autovettura. I tre giovani sono stati condotti presso il commissariato di Comiso dove nel frattempo si è recato anche il proprietario della macchina per sporgere denuncia di furto. All'esito dell'attività di polizia giudiziaria i tre soggetti sono stati denunciati a piede libero all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione e l'auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Inoltre nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria espletate dagli uomini del commissariato di Comiso alcuni giorni addietro è stata data esecuzione a un provvedimento dell'autorità che ha disposto l'espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare per nove mesi a carico di un noto soggetto, una 45enne già sottoposto a sorveglianza e con gravi pregiudizi di polizia per reati di stampo mafioso contro la persona e per spaccio di sostanze stupefacenti. Parliamo di un altro furto avvenuto stavolta a Palermo, nello specifico il furto di quattro batterie da un ripetitore telefonico. Anche in questo caso il protagonista è un giovane che è stato beccato e arrestato dalla polizia. La polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane palermitano per aver tentato di rubare quattro batterie di alimentazione da un ripetitore di telefonia mobile. L'arresto è avvenuto durante un controllo del territorio. I poliziotti sono intervenuti su segnalazione del gestore della telefonia mobile che aveva appena subito un furto di batterie da uno dei loro ripetitori in località Capaci. Grazie al sistema di localizzazione satellitare delle batterie e al costante monitoraggio della sala operativa i poliziotti hanno intercettato un'auto sospetta con un grosso carico nel bagagliaio. Il conducente ha cercato di evitare il controllo ma i poliziotti hanno deciso di procedere con un accertamento. Durante l'interrogatorio il giovane ha affermato di essere un operaio specializzato in telecomunicazioni e di aver rubato le batterie da un sito del gestore poiché aveva le chiavi per accedere alla cabina dove erano riposte. Gli agenti hanno trovato attrezzi utilizzati per smontare le batterie all'interno dell'auto e li hanno sequestrati mentre le batterie sono state restituite all'avente diritto. Il giovane è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio con il rito della direttissima. Restiamo in tema. Parliamo di un altro furto anche questa volta compiuto da un giovane a Sant'Agata di Militello. Siamo quindi nella Messinese. Un furto all'interno di un istituto scolastico e anche in questo caso gli agenti della Polizia di Stato sono subito riusciti a risalire al responsabile che è stato tratto in arresto. Si tratta di una diciottenne del posto. Vediamo il servizio. Gli agenti del commissariato di Sant'Agata di Militello hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta della locale procura sottoponendo agli arresti domiciliari un diciottenne santagatese gravemente indiziato del delitto di furto aggravato in concorso con altri soggetti ancora in corso di identificazione. Secondo le prime risultanze investigative il diciottenne, aiutato dai complici, dopo aver scavalcato il cancello che delimita l'area di ingresso di un istituto scolastico di Sant'Agata di Militello una volta rotto il vetro di una finestra del primo piano si è introdotto all'interno della scuola e si è impossessato di sfariate apparecchiature elettroniche quali computer portatili, videocamere palmari, pendrive, termometri digitali ed altri accessori elettrici. La condotta tenuta è stata aggravata anche dall'aver usato violenza sulle cose ossia aver danneggiato la finestra dell'istituto e forzato la porta d'ingresso della sala informatica ed anche dell'essersi impossessato di cose custodite in un istituto pubblico approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la difesa del personale scolastico. L'attività investigativa, che in breve tempo ha portato all'emissione della misura cautelare eseguita, ha preso spunto da un intervento effettuato la notte tra il 22 e il 23 gennaio scorso quando gli agenti delle volanti del commissariato impegnati nel servizio di controllo del territorio hanno sorpreso il giovane mentre percorreva le vie del centro di Sant'Agata di Militello con un sacco sulle spalle questi, accorgendosi del passaggio dei poliziotti ha nascosto il sacco tra alcune auto in sosta e si è allontanato con passo spedito è stato quindi seguito per essere poi identificato e sottoposto alla richiesta di chiarimenti sulla sua presenza e sul suo comportamento il giovane ha detto agli agenti di aver abbandonato il sacco in strada in quanto conteneva della spazzatura della quale si doveva disfare per conto di un suo amico gli agenti però sono riusciti a risalire alla provenienza del materiale rinvenuto essendo apposte sul pc e sulla videocamera le etichette riconducibili all'istituto scolastico distante qualche centinaia di metri dal luogo in cui il 18enne è stato notato e controllato pertanto hanno proceduto al sequestro del materiale rubato dai successivi approfondimenti investigativi intrapresi gli agenti hanno avuto la conferma che la refurtiva era proveniente proprio dal furto commesso a scuola constatando il danneggiamento degli infissi rilevando le tracce lasciate dagli autori e raccogliendo diversi indizi utili anche per l'individuazione dei complici del giovane arrestato personale dell'istituto scolastico ha poi rinvenuto nei pressi del cancello d'ingresso altra parte della refurtiva riposta all'interno di una busta della spesa anche in questo caso si trattava di un pc portatile alcune casse acustiche e un termometro a infrarossi quanto ritrovato è stato sottoposto agli accertamenti degli investigatori con lo stesso esito restiamo nel messinese ma cambiamo argomento parliamo in questo caso dei controlli effettuati dai carabinieri in due cantieri edili sono state riscontrate diverse irregolarità ed elevate sanzioni per oltre 28 mila euro vediamo il servizio nell'ambito delle iniziative volte a prevenire e reprimere i reati legati alla sicurezza sul lavoro e all'emergere del lavoro nero disposte dal comando dei carabinieri di Messina i militari delle compagnie di Sant'Agata Militello e Mistretta supportati dai colleghi del locale ispettorato del lavoro hanno controllato due cantieri situati nei territori dei due reparti a seguito dell'attività ispettiva i militari dell'arma hanno riscontrato violazioni delle normative di settore in particolare la mancanza di misure di sicurezza per prevenire tra l'altro i pericoli di caduta da ponteggi e piattaforme noti come pericoli di lavoro in quota e la mancanza di misure di prevenzione incendi i proprietari delle società sono stati entrambi rinviati e sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 28 mila euro con la contestuale sospensione temporanea di un'attività edilizia derivante dalle gravi carenze riscontrate va notato che degli otto lavoratori controllati tutti erano in ordine la campagna di controllo dei carabinieri del comando provinciale di Messina e dell'ispettorato del lavoro nel settore edile proseguirà anche nei prossimi mesi su tutta la provincia con l'obiettivo di proseguire l'incisiva azione di prevenzione e contrasto alle gravi violazioni che ledono fortemente i diritti dei lavoratori e mettono in serio pericolo la loro incolumità ed ora il covid andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino settimanale di ramato come sempre dalla regione siciliana in sicilia sono in calo sia i nuovi contagi che le ospedalizzazioni ma vediamo tutti i dati nel nostro servizio Nella settimana dal 23 al 29 gennaio si è registrato in Sicilia un netto calo delle nuove infezioni da covid in linea con la tendenza nel territorio nazionale i nuovi positivi sono stati 3.061 meno 36,28% con un valore cumulativo di 64 ogni 100.000 abitanti il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Palermo, Siracusa e Agrigento le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra gli 80 e gli 89 anni tra i 70 e 79 anni e gli over 90 i dati sono contenuti nell'ultimo bollettino settimanale a cura del Dipartimento per le attività sanitarie osservatorio epidemiologico dell'assessorato della salute della regione siciliana in base a quanto riportato nel documento le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid nella stessa settimana più della metà dei pazienti positivi in ospedale è risultata non vaccinata l'epidemia rimane in una fase delicata con un livello ancora significativo di diffusione virale ma con una ricaduta sulle nuove ospedalizzazioni più contenuta rispetto ai periodi precedenti per quanto riguarda la campagna vaccinale in Sicilia i dati sono aggiornati al 31 gennaio nel target 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose sono il 23,79% sono 63.022 i bambini pari al 20,45% che risultano vaccinati con ciclo primario completato nel target over 12 i vaccinati con almeno una dose sono il 90,96% i soggetti che hanno completato il ciclo primario si attestano all'89,59% sono ancora 1.057.866 i cittadini che pur avendone diritto non hanno effettuato la terza dose nello specifico i vaccinati con dose aggiuntiva booster sono 2.773.091 pari al 72,39% degli aventi diritto in Sicilia sono state effettuate complessivamente 239.045 somministrazioni di quarta dose di cui 210.537 a soggetti over 60 le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 8.576 a Catania sono entrati nel vivo i festeggiamenti in onore di Sant'Agata ieri ad esempio è stata consegnata la Candelora d'Oro 2023 un importante riconoscimento che quest'anno è stato assegnato al procuratore Carmelo Zuccaro allora sentiamo il servizio di Lucio Di Mauro il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania Carmelo Zuccaro ha ricevuto dal commissario saordinario del Comune di Catania la Candelora d'Oro il prestigioso riconoscimento giunto alla 25esima edizione che viene assegnato ogni anno a personalità che si sono distinte nell'impegno sociale e nelle istituzioni per favorire lo sviluppo di Catania e dei suoi cittadini insieme alla Candelora il procuratore ha preso in consegna anche la pergamena con la motivazione per l'assegnazione del riconoscimento assegnato dal Comune tramite il commissario straordinario la serata è proseguita con il classico omaggio floreale dei Vigio del Fuoco a Sant'Agata La Candelora d'Oro dunque è andata al procuratore Zuccaro e allora sentiamo le sue dichiarazioni Io ho sottolineato nel mio discorso di ringraziamento questo ovviamente sono onorato per questo riconoscimento che attribuisco più ai meriti della squadra che ho avuto l'onore di dirigere che alla mia persona e però quello che ho voluto sottolineare è che al di là di questo la cosa che per me è più importante quella che è destinata a durare del tempo e l'attenzione che a mio avviso con questa scelta il nostro commissario straordinario ha voluto dare come indirizzo nella nostra città il problema principale è quello del recupero della legalità perché la legalità solo la legalità che consente di promuovere uno sviluppo sociale sano che consente di eliminare queste sacche di emarginazione che consente di dare un futuro ai nostri giovani È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia